Ciao e benvenuto in questo nuovo video di Intanto in Thailandia. Prima di continuare con la notizia, volevo invitarti, se ancora non l'hai fatto, iscriverti al canale e cliccare sulla campanella per restare sempre aggiornato sui prossimi video. Una donna di 76 anni ha fatto causa alla figlia, una banca e quattro dipendenti della banca, con l'accusa di averle rubato 250 milioni di baht dai suoi conti correnti. Wai Srivirat è arrivata su una sedia a rotelle al tribunale civile di Prakanong, insieme a sua nipote e all'avvocato. Ha intentato una causa civile nei confronti di sua figlia, Mawadis Srivirat, di 53 anni, accusandola di essersi messa d'accordo con quattro impiegati della Kesicorn Bank per rubarle i soldi da due suoi conti correnti. L'avvocato Anantashai Chayadet, l'avvocato della signora, ha dichiarato che la signora Srivirat nel 2014 si è sentita male per motivi cardiaci ed è stata ricoverata all'ospedale. E durante il periodo che la signora è stata ricoverata in ospedale, la figlia e i quattro impiegati della banca hanno modificato le condizioni di prelievo dei soldi convertendo l'autorizzazione al prelievo dalla firma della signora ad una semplice impronta digitale. La signora Wai si è nese conto di questa azione della figlia solo quando è stata dimessa dall'ospedale e ha controllato i suoi conti correnti e ha trovato un ammanco di 253 milioni di vat che sono stati prelevati attraverso centinaia di operazioni. La signora Mintra Srivirat, di 29 anni, nipote della signora Wai, ha dichiarato che sua nonna ha accumulato quei soldi nel conto corrente in quanto per circa 30 anni ha posseduto una ditta che produceva condizionatori d'aria. Ah, fra parentesi, la nipote non è la figlia della figlia della signora che è stata portata in tribunale ma è la figlia del figlio maggiore quindi la figlia che è stata accusata le viene zia. La signora Wai aveva già sporto denunce nel 2017 presso la stazione di polizia di Udomsuk ma considerando il fatto che la polizia non si è interessata più di tanto al caso ha deciso di assumere un avvocato e di agire legalmente nei confronti della figlia della banca la Casey Cornbank e dei quattro dipendenti della banca stessa. Alle accuse della signora, la Casey Cornbank risponde che i suoi dipendenti non avevano cattive intenzioni ma cercavano di soddisfare i desideri della signora Wai attraverso un parente prossimo come la figlia. Ma la vera domanda è chi della banca Casey Cornbank ha dato questa risposta? L'ufficio relazioni con il pubblico? L'ufficio legale? Fammi capire, alla Casey Cornbank un parente può prelevare i soldi di un altro parente senza bisogno di delega? Mistero. Questa notizia finisce qua, ci vediamo al prossimo video.